Hanno sparato come se nulla fosse, non in un luogo deserto e appartato, ma niente meno che in una discoteca. Un luogo pieno di gente che si trovava lì solo per divertirsi e dove in pochi minuti si è scatenato il panico e il fuggi-fuggi generale. È accaduto a Monopoli alle tre della notte scorsa in un locale del centro della città. A terra gambizzato è rimasto un ragazzo di circa 30 anni, albanese, residente nella zona. Immediatamente soccorso dal 118 è stato trasportato al San Giacomo di Monopoli. Un secondo ferito, invece, anche lui di nazionalità albanese, è stato colpito ad un gluteo ed è stato ricoverato al Policlinico di Bari. Secondo le prime indagini, a far degenerare la situazione sarebbe stata una lite per futili motivi tra un gruppo di otto persone. I due feriti, secondo quanto accertato, sarebbero estranei ad ogni contesto malavitoso. Nella discoteca, subito dopo il grave episodio, sono intervenuti per i rilievi gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, in ausilio anche carabinieri e guardia di finanza. L'obiettivo è accertare chi abbia sparato. Quella della notte scorsa Monopoli è la seconda sparatoria in un locale notturno nell'arco di un paio di settimane. Un episodio simile, infatti, era venuto in un'altra nota discoteca meno di due settimane fa dopo una rissa.